La differenza di stazza tra soprattutto Cidru e Lorenzo Patta. Jacobs Tortu. Tensione alle stelle. Tensione alle stelle. Occhio al vento, addirittura contrario, 0.9. Ce l'avevamo visto bene su questo vento che certamente non aiuta. 10.13 ma con questo vento direi bella prova da parte di Cidru è quest'oggi. Stefano intanto su Jacobs. Jacobs non corre, è completamente frenato, non apre il gas. Quindi fa un primo 60 metri molto tattico direi perché accelera con molta gradualità. Non è svelto, non è brillante come questo inverno. È come sa fare lui, specialmente quando corre 9.80. Poi dopo si distende, fa un minimo. Ma non sono questi i tempi con cui puoi andare a difendere il tuo titolo di campione olimpico. 10.12 ufficiale per Jacobs, ufficiale anche al vento, contrario 0.9. Non è pochissimo neanche come vento contrario. Beh Stefano deve togliere un po' di ruggine, dai. Sì, insomma solo lui lo sa quanto spinge, secondo me non spinge perché è ancora molto prudente e un piccolo fastidio adesso sarebbe out. E quindi sa lui il margine di gas che è a disposizione. Intanto Ali e Stefano fa 10.16 con 0.9 divento contrario. Finalmente il confronto, sì, con... Bravo, bravo questo ragazzo con le fiamme gialle. Bravo, questo ragazzo allenato da Claudio Licciardello che sta mettendo su una bellissima squadra di giovani velocisti. Anche Longobardi recentemente nei campionati giovanili. Dove c'è anche il gruppo di Fabrizio Donato, dove c'è il gruppo di Margesin. Molto bravi. Precedentemente Angelo Ulisse, secondo gli nero di tutti i tempi sui 60 Indor. Insomma... Kituro che è rimasto attaccato a Marcel fino a 60, 60, 70 metri. Sì, anche perché è uscito meglio forse Tortu, però è stretto, vedi, non apre il compasso. Cioè, sa lui quanto può dosare di acceleratore senza andare a rischiare di offendere una gamba in recupero, ancora non completo. Il viso, Stefano? Il viso è molto rilassato perché lui sta eseguendo un esercizio e lo esegue anche molto bene. Sì, non è che abbia spinto tantissimo...